Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LL Lunedì Letto, leggendo e leggerò il mio aggiornamento settimanale in cui vi dico che cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro Oggi abbiamo un sacco di librini di cui parlare ma prima di tutto chiedo scusa perché si sentirà in sottofondo sicuramente la lavastoviglie ma ehi, ho solo oggi per registrare quindi ci teniamo il sottofondo che magari è pure un po' ASMR la butto lì per arrampicarmi sugli specchi ma andiamo avanti vi dico solo che a fine video vi farò una domandina con cui potremo chiacchierare giù nei commenti e io adoro farle perché escono fuori dei dibattiti un sacco interessanti ogni volta mi diverto tantissimo a rispondervi e alcuni di questi libri di cui vi parlerò avranno l'affiliazione Amazon quindi se comprirete da lì a voi non capirà nulla mentre era una piccola percentuale andiamo subito con i due libri letti ossia scritto sul corpo di Bennett e è terribile essere una donna di Antonia Pozzi iniziamo con la mia più totale ignoranza io non sapevo che fosse Antonia Pozzi è stata una poetessa italiana del Novecento si è tolta la vita a 26 anni quindi non abbiamo molto di suo questa è una raccolta di lettere devo dire che io non conoscevo soprattutto la sua tragica fine quindi sono rimasta un po' interdetta nell'ultima lettere che è quella da Dio e continuo a ripetere che a me sta cosa un po' dà fastidio e se avessi capito che questa era una serie di lettere private non l'avrei comprato onestamente perché mi sento sempre di spulciare nella vita degli altri una cosa bella però è vedere nei primi del Novecento una ragazza che fa tutti i viaggi che fa nonostante ecco magari noi possiamo immaginare che gli anni in cui sale il fascismo, sale il nazismo si hanno, non lo so, nella mia testa c'è la guerra appunto non c'è una situazione in cui uno può viaggiare può andare a Berlino, le va ad Atene va in Grecia, in Spagna, in Francia ovunque, cioè fa un sacco di viaggi e dai suoi viaggi manda delle lettere a casa non è che io lo consigli sarei però curiosa a questo punto di leggere un po' della sua poesia poi, scritto sul corpo di Alan Bennett è un piccolo racconto della propria diversità Bennett è un uomo gay però racconta della scoperta della propria sessualità negli anni 50 quando era adolescente di tutti i sensi di colpa del fatto che non ci fosse nessun modo nessuna persona con cui parlare di quello che provava di quello che sentiva del fatto che lui non riusciva neanche a riconoscere la sessualità come qualcosa di congruo tanto più che era attratto soltanto da persone dello stesso sesso l'ho trovato davvero molto interessante e poi come sempre ci sono varie frasi simpatiche sarcastiche, ironiche lui ha il suo humor inglese che lo tiene sempre in piedi e l'ho trovato davvero spassoso, toccante, interessante anche se è super piccolo si legge in un attimo ma è anche coinvolgente e non succede sempre allora, ho tre libri in lettura partiamo da quello che si smarca facile ossia i bottoni di Napoleone e le 17 molecole che hanno cambiato la storia lo stiamo leggendo in live quindi vi rimando direttamente alla playlist della live so che qualcuno ha comprato questo libro perché era troppo interessante quello che leggevamo insieme e quindi voleva proprio la copia cartacea e ne sono troppo felice perché in effetti è sì scritto super fit e quindi anche un po' faticoso da leggere a voce alta ma ha un ritmo fantastico e quello che scopriamo è super interessante alcune molecole le conoscevo già perché le avevo fatte a scuola però riconoscere l'impatto di piccole cose come la vitamina C sul mondo del passato è un sacco interessante e io già mi sto impappinando dopo tre libri fantastico poi sto continuando come funzionano i romanzi devo dire che non lo sopporto più non mi piace com'è scritto non mi piace gli esempi che fa sono d'accordo con lui soltanto dal punto di vista di Jane Austen e di Virginia Woolf perché ovviamente autrici del cuore per tutta la vita e vi leggo un pezzetto sulla forma perché tira fuori un'immagine interessante la forma è collegata alla storia come una folla è collegata alle persone che la compongono la folla è la somma, la sagoma, il profilo delle persone al suo interno analogamente la forma è la somma, la sagoma, il profilo delle storie che contiene questi elementi sono necessariamente correlati un certo gruppo di persone crea un certo genere di folla c'è un'evidente differenza tra un cocktail party e un assembramento violento o tra due innamorati che fanno una passeggiata e migliaia di persone che aspettano il capodanno a Times Square entrano in campo regole di spazio e di proporzione non si possono fare entrare 20.000 persone in un salotto mentre due persone a Times Square l'ultimo dell'anno sembrerebbero non solo un errore di categoria ma anche un po' sperdute in un modo assai simile la storia è collegata alla forma e in una certa misura la determina e la forma in una certa misura determina la storia proprio come gli assembramenti o le feste possono assumere una vita propria e determinare le attività e lo stato d'animo dei singoli individui all'interno di una folla mi era piaciuta questa idea di folla e forma insieme però io questo saggio non ve lo consiglio speravo che fosse molto più tecnico e che mi aiutasse a comprendere altri tipi di storie mentre è più una tirata personale di quello che gli piace diciamola un po' così perché questa è la verità dopodiché ho iniziato le onde ragazzi io sono estasiata l'unico problema di questo libro è che non si riescono a leggere più di 5 pagine di seguito perché è pregno di frasi importanti di riflessioni c'è molta solitudine c'è l'abbondanza dei colori delle descrizioni abbiamo 4 personaggi principali che si alternano anzi mi sa che sono 6 6 personaggi principali che si alternano 3 ragazzi e 3 ragazze e i loro punti di vista cambiano in ogni paragrafo è molto complesso da seguire per questo e il tutto è inframezzato da descrizioni del mare che ragazzi ragazzi cioè non so non so proprio come dirvelo wow wow e questo secondo me ha l'incipit più bello del mondo proverò a leggervelo anche se dura un po' e stavo in realtà pensando di mettervi se lo ritrovo il pezzo del vlog che ho fatto a Lipari sull'alba perché si apre proprio sull'alba in spiaggia il sole non si era ancora levato il mare non si distingueva dal cielo era solo appena appena increspato come un panno gualcito pian piano col cielo che si schiariva si poggiò sull'orizzonte una linea scura che li divise e il panno grigio si spezzò a forza di colpi veloci che da sotto salivano in superficie incalzandosi uno dietro l'altro in movimento perpetuo avvicinandosi alla spiaggia ogni striscia si sollevava si gonfiava si rompeva ricoprendo la sabbia di un velo sottile d'acqua bianca l'onda si arrestava poi si ritirava sibilando come chi respiri lento regolare incosciente nel sonno pian piano la striscia scura all'orizzonte si fece più chiara come se in una vecchia bottiglia di vino il sedimento fosse calato a fondo lasciando il vetro verde trasparente e dietro come se pure lì il sedimento bianco fosse sprofondato il braccio di una donna distesa sull'orizzonte avesse sollevato una lampada anche il cielo si schiarì e delle strisce piatte di bianco, di verde e di giallo si propagarono nell'aria a lama di ventaglio poi la donna alzò più alta la lampada e l'aria sembra farsi fibrosa e strapparsi dalla superficie verde con guizzi e bampe di fibre rosse e gialle come la fiamma fumosa di un falò che sfavilla pian piano le fibre del falò si fusero in un solo alone un'unica incandescenza che sollevò il peso del cielo grigio spumoso e lo mutò in milioni di atomi di soffice azzurro la superficie del mare lentamente si limpidì e brillò mossa ondulata e spumosa finché le strisce scure non scomparvero quasi del tutto lentamente il braccio che reggeva la lampada la sollevò più in alto e più in alto ancora finché si vide una grande fiamma un arco di fuoco si accese sull'orlo estremo dell'orizzonte e tutto intorno il mare avvampò d'oro per me da pelle d'occa che gli vuoi di? ma quanto è bello! mamma mia! ora però il fatto è che la musicalità è importante il ritmo è importante ed è brutto leggerlo velocemente e non approfondire ogni frase ogni scelta stilistica e la forma quindi nonostante io l'abbia iniziato da un bel po' sono a malapena a pagina 20 andremo piano piano magari leggerò qualche altro libro nel frattempo infatti quando mi toglierò qualcosa in questa fila di tre probabilmente sarà Wood come funzionario in romanzi leggerò Memorie di un bar mi parlo di Sasha Guidry perchè ho bisogno di Parigi ho bisogno di Francia sono di nuovo nella nostalgia fortissima vorrei tipo troppo stare a Parigi in questo momento io non so perchè ho questa cosa secondo me perchè i miei genitori mi ci hanno portato a tre mesi e quindi ho tipo una fissazione per Parigi perchè lo riconosco come casa è l'unica spiegazione che riesco a darmi la domandina che voglio farvi oggi è qual è il vostro incipit preferito? per quanto riguarda me questo è il mio nuovo incipit preferito anche se riconosco che Orgoglio e Pregiudizio e Anna Karenina abbiano avuto un impatto davvero potente infatti appena si sentono quegli incipit si riconosce subito il libro io sono rimasta stregata da questo di Virginia Woolf ma sono curiosissima di sapere la vostra e di chiacchierare giù nei commenti con voi ora non mi rimane che augurarvi buona lettura